Ciao muli, come se? Come vedete sto mandando giù i santi del calendario, ma non posso farveli vedere. Allora, due cose. Intanto siamo a Vigile di Pasqua, vi faccio tutti gli auguri per domani. Non è la solita Pasqua come la facciamo ogni anno, ma dobbiamo accettare la situazione. Poi, come vedete, sto lavorando al video del viaggio in 50, che deve andare in onda il primo di maggio. Allora, il mio vecchio MacBook sta facendo fatica. È un computer fine 2009, l'ho aggiornato tutto quanto, ma ho fatto un'ora di video ed è solo una parte del racconto del viaggio, quindi il video deve essere fatto in due puntate, da un'ora circa l'una. Sto renderizzando il video per poter andare avanti a lavorare con più fluidità e da ieri pomeriggio alle 4 che sta lavorando e ha appena fatto il 30% di renderizzazione, quindi di chiusura del video per poter esportarlo dopo. Quindi mi ritrovo con veramente un carico di lavoro pazzesco per il Mac, perché finché faccio video di un quarto d'ora, 20 minuti, ci siamo. Qua stiamo già a 50 minuti, sta facendo fatica. Quindi, mi è venuta in mente un'idea. Visto che ultimamente sto facendo le live e comunque le state apprezzando, quasi quasi io farei uno speciale live a fine mese, trovo il software per poter fare la live, dove posso anche mettere le fotografie e farei le live del racconto del viaggio che ho fatto con il Cinquantino in direzione del Caponorto. Quindi, invece di fare il video, faccio la live e chi non assiste alla live, comunque ci sarà la live a disposizione di tutti che potrà vederla in secondo momento. Il bello della live è che comunque potete interagire anche voi con me. Quindi, non so, fatemi sapere cosa pensate nei commenti sotto e vi do tempo, non so, una settimana. Oggi è sabato 11 aprile, sabato prossimo controllo i commenti. Scusate perché sto tremando, perché c'ho la tremarella, mo' lì qua, l'alzheimer, non so come si chiama. Sto invecchiando. Quindi, dicevo, facciamo questo sondaggio, mettetemi i commenti qua e dopo vedrò in base se accettate il discorso della live o il video che sto lavorando. Così almeno mi risparmi un po' il mio MacBook, poverino, che non ce la fa. Ormai io mi ostino, ma a parte che non c'è budget, quindi non sto lavorando e non posso permettermi di comprare un altro. Però, dai, fatemi sapere cosa ne pensate. Aspetto i commenti vostri. E poi, se siete nuovi, mettete un clic alla campanella e iscrivetevi al canale, così cresciamo tutti assieme. Dai, buona Pasqua a tutti e buona serata. Ciao!